Un esperto di pubbliche relazioni ha avvertito che sarebbe una mossa sbagliata per il principe Ferri e Meghan Markle parlare apertamente della principessa Kate dopo il suo aggiornamento sulla salute. Il principe Ferri e Meghan Markle sono stati avvertiti di non tentare di contattare la principessa Kate, poiché lei rimane fuori servizio, mentre si sta riprendendo da un intervento chirurgico addominale. La principessa del Galles è stata assente dagli eventi reali dopo la procedura del 16 gennaio, con Kensington Palace, che l'ha informata che non tornerà al lavoro prima di Pasqua. Mentre si dice che il duca e la duchessa di Sussex, abbiano in programma di visitare nuovamente il Regno Unito entro la fine dell'anno, l'esperto di pubbliche relazioni Ryan McCormick, ha consigliato che sarebbe meglio non parlare di Kate, per evitare di suscitare pettegolezzi. Ha detto al Mirror, Ferri e Meghan sarebbero più adatti a non fare commenti pubblici su Kate. Tutto ciò che dicono verrebbe smontato, e se augurassero a Kate una rapida guarigione, la gente inizierebbe a indovinare cosa sta succedendo dietro le quinte. Un portavoce reale ha detto in un aggiornamento la scorsa settimana. Kensington Palace, ha chiarito a gennaio le tempistiche del recupero della principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi. Questa guida è valida. La principessa del Galles continua a stare bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.